Buongiorno e benvenuti all'ultima sezione, sezione numero 5 della lezione 3. In questa sezione parliamo un po', parliamo un po' insieme, vediamo. Ora rispondi alle mie domande, rispondi alle domande. Quanti anni hai? Io ho bla bla bla, anni e tu? Io ho 24, qual è la tua e-mail? Scusa, puoi ripetere? Scusa, puoi ripetere? Ancora la tua e-mail. Qual è il tuo numero di telefono? Qual è il tuo numero di telefono? Stasera io vado al cinema. Vieni? Stasera vado al cinema. Vieni? Vengo volentieri. Sì, vengo volentieri. Molto bene. Ora, tu fai a me le domande. Ok? Fai a me le domande. Io rispondo. Ho 26 anni. Sì, ho un telefono italiano. Il mio numero di telefono è, iniziamo da. Numero 1. Questo. Ho 26 anni. Quanti anni hai? Ho 26 anni. Sì, ho un telefono italiano. Hai un telefono italiano? Sì, ho un telefono italiano. Prossima. Il mio numero di telefono è 328-665178. Qual è il tuo numero di telefono? Il mio numero di telefono è 328-6651789. Il mio indirizzo email è luca.veri.gmail.com Qual è il tuo indirizzo email? Bene. Ultimo. Lucaveri.gmail.com Qual è il tuo indirizzo? Scusa, puoi ripetere? Ah, sì. Luca.veri.gmail.com Scusa, puoi ripetere? Ok. Va bene. In questa lezione abbiamo imparato con le parole ed espressioni in particolare le lettere del alfabeto A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z L'alfabeto italiano O di grammatica in particolare il verbo avere io ho tu hai gli aggettivi possessivi il mio la mia e alcune funzioni comunicative quanti anni hai? Ho 22 anni quanti anni hai? Ho 22 anni qual è il tuo indirizzo email? Il mio indirizzo email è an.simone.gmail.com Qual è il tuo numero di telefono? Il mio numero di telefono è 348 75 66891 Molto bene la lezione è finita arrivederci alla prossima lezione ciao ciao